Ariadna Romero, ex del velino Pierpaolo Pretelli e madre del piccolo Lenardo, è da poco approdata all'isola dei famosi, ma la sua presenza ha già portato scompiglio. Ariadna esercita un certo fascito sui maschi, primo tra tutti Ghezzal, ma è la conduttrice Alessia Marcuzzi a fare chiarezza. Ariadna si è dichiarata single, ma pare che nella sua testa ci sia una persona di cui non vuole fare il nome. La Marcuzzi le rivela però che il giovane in questione, Francesco Acerbi, calciatore della Lazio e ha rilasciato alcune dichiarazioni a Spy, spiegando di aver frequentato per breve tempo la Romero, ma di averle chiaramente detto prima di partire e di non sapere se l'avrebbe aspettata. Ariadna fa capire di esserci rimasta male. Io ho detto che ero singolo, ho detto che ci tenevo, poi se lui ha fatto questa dichiarazione, buono a sapersi.